Io vi lascio a questa coreografia, facciamo fin da di andare indietro nel tempo, negli anni 50, dove c'era un bar, dove c'era il lavatoio, poi non vi dirò di più, a voi, IENTU! Sì! La 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 la... Grazie a tutti. 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 Un applauso ai nostri ballerini che richiameremo in pista. Grazie a tutti.